E Radio Radicale, siamo con l'On. Luana Zanella, capogruppo di Sinistra Italiana Verdi, per parlare non di risse e di scontri qui a Montecitorio, ma di una questione seria, ovvero del G7 che si apre oggi in Puglia. Allora, sulla bozza del documento c'era scritta, c'era un punto che riguardava l'aborto e su questo punto c'è stato un giallo perché la definizione, l'impegno dei sette grandi sull'aborto poi è sparita. Ha capito che cos'è successo e soprattutto ritiene che sia sparito perché l'ha voluto l'Italia? Guardi, è proprio un sospetto perché effettivamente da notizie che abbiamo, non sono state confermate dalla Presidenza, sarebbe stata l'Italia, cioè la Presidente Meloni, a togliere questo punto che è un punto, diciamo, che era stato anticipato e quasi confermato da altre fonti nella bozza finale. E questo ha indotto noi, a partire dalle deputate senatrici dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a chiedere che nel caso sia così, Meloni venga a spiegare questo tipo di scelta in aula perché la nostra Premier non può continuare a dire che difende a spada tratta la 194 che non mette mano qua e là da una parte e dall'altra a non fare nulla perché l'accesso, parliamo di accesso al servizio di aborto sia garantito effettivamente, cosa che non viene fatta, lo abbiamo denunciato ormai da anni in quanto nelle regioni sono tantissime e tantissime purtroppo le ginecologhe che sono obietrori, obiettrici di coscienza. Inoltre l'aborto farmacologico non viene garantito e sarebbe più semplice, sarebbe più accessibile e anche questo è un punto su cui la Premier non si è mai pronunciata. Quindi in un momento così, diciamo, importante, quale quello che attraversiamo laddove l'Italia è alla presidenza del G7 sulla bozza che venga, diciamo, stralciato un punto che soprattutto per stati come Francia, Canada, Germania, eccetera addirittura in Francia e all'interno della Costituzione quindi dei diritti fondamentali l'accesso all'aborto, c'è questa copertura di tipo veramente fondativo di quella democrazia non si capisce perché nel documento finale non ci debba essere quello che prima invece. Quindi noi come deputate senatrici e naturalmente i gruppi nel loro insieme chiederemo che venga fatta una relazione in aula dettagliata, precisa, trasparente perché se dovesse essere successo questo sarebbe veramente un fatto di una gravità enorme. Senta, le volevo chiedere due altre cose. Allora, ritiene che la Francia che ha messo la norma in Costituzione oggi sia politicamente un po' debole per imporsi nel G7 su un punto come questo perché la Francia era il paese che forse lo voleva più di tutti questo punto un po' più chiaro rispetto ai precedenti G7. Poi ritiene che il punto sia sparito per cercare di negoziare una valutazione più soft come quella che per esempio c'era stata nei precedenti G7 dove si parlava di diritto all'aborto senza parlare di effettivo diritto. Io, sì, sono tutte queste ipotesi che lei propone sono molto verosimili, condivisibili però io credo per quanto riguarda la Francia chi siede al G7 è, diciamo, legittimato e sicuramente porterà avanti il punto di vista che ha fatto sì che ci sia una traduzione così all'altezza al livello della Costituzione di quello che è per Macron e quanto rappresenta in Francia il principio di autodeterminazione della donna e quindi non credo che... Diciamo che sicuramente le elezioni europee hanno contribuito a depotenziare e depotenziare, diciamo, la sicurezza dal punto di vista della rappresentanza di queste forze politiche che siedono e a indebolirla che siedono attorno al tavolo del G7 e paradossalmente, diciamo, uno dei punti sacrificabili era quello, guarda caso, che riguarda le donne non mi meraviglia perché è sempre stato purtroppo oggetto di scambio mi ricordo alla mia epoca quando ci furono le lotte femministe e anche radicali per conquistare il diritto di autodeterminazione mi ricordo che noi, come per le strade dicevamo, nessun compromesso sulla pancia delle donne invece il compromesso sulla pancia delle donne si continua a fare Quando l'ha formalizzata la richiesta di intervenire alla Meloni dopo il G7? Quando abbiamo dati più certi Certo E vedrete il documento che esce fuori Eh, ovviamente Bene, grazie come sempre a Luana Zanella Capogruppo di Sinistra Italiana Verdi a Montecitorio Grazie a tutti Grazie a tutti